E dopo Rick Roland inauguriamo qua la collana avventura per la recensione dei fumetti franco-belgi e con cosa lo facciamo? Con Luke Orien Come al solito prima di recensirvi il fumetto vi ricordo che se state seguendo questo video su Facebook lo potete trovare anche su YouTube iscrivendovi al canale Viper Comics se utilizzate già la piattaforma YouTube sapete che rispetto a quella di Facebook di Zuckerberg è molto più facile, molto più adatta per seguire i video e le video recensioni Io ve l'ho detto Ebbene, visto che si tratta della prima recensione della collana avventura spieghiamo di che cosa tratta questa altra grande raccolta della gazzetta Tratta di un ciclo di fumetti di diversi autori con ovviamente a base il tema dell'avventura anche se questa viene declinata in modi anche molto diversi tra loro Qua abbiamo un Luke Orien che possiamo definire a tema fantascientifico una fantascienza un po' particolare la potreste accostare a Flash Gordon molto a grandi linee ma della stessa collana faranno parte anche diversi altri classici come Bernard Prince, Bob Moraine, Bruno Basil ed altri ancora fino ad arrivare a quella che per me è la vera punta di diamante di questa collana ovvero Blake & Mortimer serie con molte meno sfumature fantascientifiche ed un setting storico pseudo-realistico Vi ricordo tra l'altro che le collane avventura pubblicate dalla gazzetta sono due questa è la serie con quelle diciamo più classiche che hanno fatto la storia della Bede mentre la seconda è in questo periodo nell'edicole e propone storie più recenti degli anni 90-2000 sempre della Bede vi sono presenti ad esempio Lady S o Largo Winch ovviamente io sto raccogliendo anche questa nuova serie ma tornando ora a questa prima collana dell'avventura perché ho scelto proprio Luke Orien che come vedete dalla numerazione questo è il numero 34 non è l'ordine con cui sono state presentate le storie in edicola questo perché? perché quando collane come questa presentano più serie, più autori e io le recupero magari come in questa volta come in questo caso tutte in una volta su ebay tendo a seguire come ordine di lettura quello in cui parto dalla serie diciamo che mi ispira di meno per tenermi invece le migliori o almeno quello che presumo possano esserlo per la fine voglio dire quindi allora che questo Luke Orien è una brutta serie? beh per ora io ho letto le prime 5 storie raccolte nei primi 3 albi e devo dire che no non è una brutta serie però sconta alcuni aspetti che forse non la rendono adatta a tutti prima di tutto si tratta di una serie un po' datata nella serie queste prime 5 storie che compongono il famoso ciclo di Terango sono state pubblicate tra il 67 ed il 69 diciamo che trattandosi di un tema fantascientifico il fatto di essere una serie datata forse si fa sentire un po' di più rispetto magari a storie appartenenti ad altri generi tuttavia lo stile la scrittura che ai nostri occhi magari oggi può offrire qualche taglio che ci può sembrare diciamo ingenuo è dotato comunque di un fascino che secondo me riesce a rendere godibile anche oggigiorno ma per recensirvela vediamo di cosa parla questo arco narrativo suddiviso nei primi 5 capitoli possiamo suddividere la storia in due parti la prima che è composta dei primi due capitoli vede i nostri protagonisti raggiungere un'imprecisa regione del sud est asiatico dove pare sia stata ritrovata una pietra molto particolare dotata di strani poteri ma anche molto pericolosa in quanto pare emetta potenti radiazioni a capo della spedizione c'è di questa spedizione c'è il professor Ugo Cala il personaggio a mio avviso più carismatico il cervello della compagnia e Luca Oriente non è altro che l'assistente ed in questi primi albi compare caratterizzato questo Luca Oriente un po' come un giovane scappestrato ma ai tante e coraggioso c'è poi la bella Laura Hansen e l'aiutante tuttofare Toby al loro servizio ovviamente non poteva mancare il cattivo antagonista qui nei panni del temibile Julius Argos vecchiardo scienziato pazzo che ovviamente vorrà raggiungere la scoperta dei misteri prima dei propri avversari il mistero poi vira verso qualche cosa di veramente interessante quando si scopre che i luoghi che esplorano Cala e Luke hanno una vegetazione ed una fauna sconosciuta e la scoperta stessa di che cosa siano questi draghi di fuoco e questi soli di ghiaccio che danno i titoli ai due albi renderà esplicito il tema base di questo ciclo appunto la fantascienza a quanto pare infatti la zona è stata sconvolta dall'arrivo molto tempo addietro di alcuni extraterrestri non hanno queste intenzioni bellicose ma si sono schiantati sul pianeta ed i nostri protagonisti li aiuteranno a reanimare alcuni loro compagni rimasti ibernati e quindi per poterli poi quindi rispedire sul loro pianeta di origine e qui se vogliamo il fascino è dettato anche da una qualche sfumatura che richiama alla mente anche un qualcosa in stile pianeta delle scimmie per come si accavalla il tempo senza tuttavia avere alcun riferimento ai viaggi nello spazio-tempo della famosa sagga scimmiuta la seconda parte invece cambia completamente passo i nostri amici sono tornati a casa dalla spedizione e questa volta sono raggiunti a casa loro dai Terangiani gli alieni che hanno aiutato nella prima parte per una seconda volta gli alieni avranno bisogno dell'aiuto di Luke Orient e di Hugo Kala ma questa volta dovranno seguirli loro sul loro pianeta Suterango dove un despota tiranno è venuto a conoscenza del ritorno dalla terra di questi qua e si appresta a mandare una spedizione per conquistarla Luke e Hugo dovranno aiutare la resistenza di questo pianeta nell'organizzare un colpo di stato in questo caso un colpo di pianeta in questa seconda parte quindi la farà da padrone lo scoprire questo pianeta alieno le rispettive tecnologie e le razze che lo abitano il tutto ovviamente ha una credibilità se vogliamo altalenante ai nostri occhi oggigiorno però ribadisco che è godibile da come ne avevo letto di come si parla di questo Luke Oriente mi aspettavo un approccio molto più banale mentre qui lo stile e le invenzioni di Greg rendono la lettura del susseguirsi delle vicende comunque abbastanza interessante diciamo che al complesso della sceneggiatura possiamo dare un voto di 6 e mezzo il tratto di Eddie Papp invece pur tradendo uno stile un po' invecchiato secondo me rimane buono curato e soddisfacente in particolare nell'estetica dei protagonisti particolare invece la fantasia con cui dà vita agli alieni e dal nuovo pianeta purtroppo però la colorazione qui rivisitata diventa meno carica per cercare di apparire se vogliamo più moderna ma il risultato non l'ho trovato del tutto indovinato nel complesso parlerai di un impatto grafico se vogliamo al massimo sufficiente per essere fantascienza peraltro un po' anticata devo dire che questo primo ciclo narrativo di Luke Oriente mi ha stupito mi ha stupito in positivo ok infatti diciamo che le aspettative forse non erano poi così alti quindi non ne sono rimasto deluso ma la sceneggiatura di questi primi 5 albi i primi 5 capitoli racchiusi in questi albi mi è davvero piaciuta peccato solo che lo stile grafico non mantenga altrettanto inalterato il fascino generale dell'opera e per cui a questi primi capitoli diciamo che do un 6 complessivo ovviamente lo consiglio solo a chi ha una predilezione per lo stile dei fumetti franco-belgi e soprattutto a coloro che non disdegnano il recupero di certi classici del passato voi come al solito se avete già detto questo ciclo di Terango mi raccomando lasciate il vostro commento qui sotto per dire la vostra e aumentare quanto più possibile i punti di vista con cui confrontarsi con gli altri denti che hanno visto questo video grazie per gli eventuali commenti e per gli spolliccionamenti se volete vedere la prossima recensione di queste collane avventura mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo nei prossimi video grazie per la visione